Buongiorno amici, come state? Mi auguro bene per questo periodo che stiamo passando. In questo momento sto elaborando per il mio futuro, sto cercando di essere luggimirante, fare altro, perché praticamente non ci possiamo ancora muovere. Allora ho avuto uno spunto da un grande mio amico di comprarmi un libro del mio settore. Sicuramente mi dirà molte informazioni. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Il cibo e la cucina. L'editore Harold McJ. Un'edizione completamente rivisitata e aggiornata sulla scienza, sulla storia e sulla cottura degli alimenti. Fatelo anche voi, che vi può servire. Buon sabato a tutti e buona giornata.